Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruvi, sono ritornato qui per fare una recensione singola, scusate che mi aggiusto, la recensione di un libro che io ho scoperto non casualmente, nel senso che l'ho sempre snobbato, ho sempre snobbato il genere, ho sempre snobbato l'autore, devo ammetterlo, in totale libertà, e il libro era nella libreria dello Shuv, e ho detto, ciao, lo prendo su, tanto non legge, quindi compre libri per bellezza, ma stendiamo veli pietosi, ce l'avevo lì in libreria e non mi decidevo mai a leggerlo, allora ho deciso di leggerlo, di incominciare questo libro, e mi ha preso in una maniera, oh mio dio, cioè è stato bellissimo, è stato angosciante, è stato fantastico, è stato meraviglioso, cioè io non riesco più a trovare dei termini per definire questo libro, che mi è piaciuto veramente tanto ed entra di diritto a far parte del top 2016, sto parlando di Misery, di Stephen King, no, quello è il tono del libro di merda, vabbè, ma fa lo stesso, allora, l'edizione è abbastanza vecchiotta, come potete vedere, dietro c'è ancora il prezzo in lire, la 15.000 lire, e quella che è la Spelling Pepperback, forse è diventata la Spelling & Craft, credo, allora, io avevo visto il film di Misery, con la, quell'attrice che adesso non mi ricordo come si chiama, che è stato veramente molto molto bello, molto, anche lì molto angosciante, solo che per certi aspetti ho preferito il libro, dunque di che cosa parla? Parla praticamente di un romanzo, c'è un romanzo nel romanzo, ovvero parla di uno scrittore, Paul Sheldon, che scrive il suo ultimo romanzo di Misery e decide di passare ad altro, decide di scrivere altro genere, decide di scrivere altri personaggi, decide di scrivere di altre situazioni, perché è stufo di sta Misery, cioè Misery gli ha dato visibilità, Misery gli ha dato successo e quant'altro, però lui è stufo, vuole mettere un punto fermo su Misery e poi voltare pagina, scrive questo romanzo che si chiama Bolidi e fa solamente una sola coppia di questo romanzo, questo aspetto sarà molto importante perché lo vedremo successivamente. Paul fa un incidente, c'è una bufera di neve, va fuoristrada e viene salvato da questa Annie Wilkes, Annie Wilkes è la sua fan numero uno, lo porta in casa sua, gli dice che è una sua grandissima fan, è una fan di Misery, ha letto tutti i suoi romanzi e non vede l'ora di leggere l'ultimo romanzo, perché Misery è il suo idolo, Misery l'ha tenuto a compagnia per tanto tempo e quant'altro, quando legge l'ultimo romanzo di Misery apriti cielo, perché? Perché nell'ultimo romanzo Misery muore di parto e quindi la nostra cara Annie va completamente fuori di testa, oddio, non è che prima non manifestasse delle turbe mentali, ma diciamo che la lettura di questo romanzo le ha amplificate, diciamo così, senza offendere nessuno. Lei incomincia ad impazzire la mia Misery, ha ucciso la mia Misery di qua e di là e che cosa fa? Innanzitutto gli costringe Paul a bruciare il suo manoscritto, a bruciare questo romanzo dove lui comunque stava lavorando da un sacco di tempo, lei infatti legge questo manoscritto e non contenta di quello che Paul ha scritto e lo obbliga a scrivere il romanzo di Misery riportandola in vita, cioè cambiando completamente il finale e cambiando completamente il destino di Misery che è la sua idola, la sua eroina, adesso non so come definirla. Allora, il film e il romanzo, seppur siano comunque complementari, hanno due punti di vista diversi, ovvero, mentre il film si concentra molto su Paul, sul rapporto con Annie, sul fatto che lui debba sopravvivere, su come lui cerchi in tanti modi di ucciderla, il libro si concentra molto sulla figura dello scrittore, il rapporto con i fan, lo scrittore che in qualche modo deve scrivere non perché gli piaccia, ma comunque perché sa che quella tipologia di libro può vendere e quindi alla fine è costretto, diciamo così, a farlo, di lo scrittore in quanto creatore che crea le sue creature, no? Però molto spesso quando crea le sue creature non c'è un buon rapporto, perché Paul Sheldon non ha un buon rapporto con Misery, cioè lui deve molto alla saga di Misery, assolutamente, però lui è stufo di essere accorpato a Misery, di essere ricordato solo perché ha scritto Misery e quindi diciamo che lui scrive la saga di Misery non tanto perché lo vuole, ma quanto per accontentare il suo pubblico, tant'è che all'inizio del romanzo si dice che lui è stato sobbarcato di lettere, in quanto voglio, volevano altro continuo di Misery e quant'altro, quindi l'ultimo romanzo è stato un po' costretto a scriverlo, solo che il creatore è lui che decide e quindi decide di togliere di mezzo Misery, in quanto morta lei non è che si poteva andare avanti, cioè non è che si poteva fare i pronipoti di Misery e quindi voleva totalmente chiudere. E anche il suo rapporto con i fan, che molto spesso può essere molto, come si dice, molto costruttivo, perché comunque a chi non piace ricevere comunque dei complimenti per il lavoro che fa, solo che insomma ha trovato la fan, una delle fan più particolari, una delle fan che in qualche modo è totalmente affezionata a Misery ed è affezionata a Misery come se Misery fosse una persona, cioè chi legge i libri si affeziona talmente tanto ai protagonisti, che poi non necessariamente possono essere i principali, ma possono essere anche secondari, si affeziona talmente tanto che è come se diventassero persone reali, cioè tu instauri un rapporto con quel personaggio come se instaurassi un rapporto con una persona reale, tant'è che noi speriamo sempre il meglio, no? Quando poi disgraziatamente il personaggio muore, ci dispiace, no? Come se perdessimo una persona cara, cioè quanti di noi non vorrebbero incontrare lo scrittore X per dirgli perché mi ha ucciso il mio personaggio preferito e quant'altro. Quindi inconsciamente siamo un po' tutti Annie Wilkes, solo che non arriviamo ovviamente a questi livelli. Oddio, io arrivo a questi livelli solo se Martin mi uccide Cersei, cioè io lo vado proprio a rapire a casa sua e lo porto in casa mia, oppure vado io a casa sua e lo leggo a letto. Ecco, quindi diciamo che siamo un po' tutti Annie Wilkes, no? Sotto questo aspetto. Poi ovviamente lei ha delle problematiche, lei fa l'infermiera, ogni pedale dove lei andava a lavorare inspiegabilmente morivano dei pazienti, non si capisce perché, poi lei ha avuto anche un processo e quant'altro per la morte se non sbaglio di un bambino. Ecco, questa parte secondo me doveva essere più approfondita, mentre nel film si riesce a capire il perché la cara Annie sia in quello stato, cioè non è che viene spiegato, però in qualche modo riusciamo comunque a percepirlo. Nel libro questa cosa non viene capita. Un'altra differenza è che i sopprusi che Annie fa nei confronti di Paul sono veramente una cosa imbarazzante, cioè è veramente, mamma mia, cioè non riesco a trovare i termini. Mentre nel libro ci sono sì queste cose, però vengono messe in secondo piano, cioè non sono angoscianti come nel film. Un'altra differenza è il finale. Il finale del film è veramente molto così. Ci sono anche delle differenze ovviamente tra il film e il libro, però diciamo che il finale non si riesce bene a comprendere, mentre nel libro la parte finale è ben spiegata e ben approfondita, cioè riusciamo a vedere il povero Paul che fine fa porello, poraccio. Devo dire che King è stato geniale per tanti motivi. Lui con solamente due personaggi e un'ambientazione che poi è la casa, perché tutto si svolge nella casa di Annie, e con un maiale che si chiama Misery è riuscito a fare una storia molto coinvolgente, è riuscito a fare una storia veramente eccellente, che ti lascia col fiato sospeso. Tu vuoi sapere come va avanti, no? E la tensione cresce pagina per pagina, capitolo per capitolo. Cioè tu vivi in quel momento quello che sta vivendo Paul, le sue paure, le sue insicurezze, il fatto che deve sopravvivere, il fatto che deve scrivere forzatamente questo romanzo, perché ovviamente lo scrittore non è una macchina che può scrivere a comando. Lo scrittore deve, lo scrittore in qualche modo deve cercare l'ispirazione, deve cercare il mood giusto per scrivere, tant'è che lui si affaccia alla finestra proprio per trovare l'ispirazione, che è una cosa veramente difficile, cioè scrivere comunque sotto ansia, no? Perché sei obbligato in qualche modo a scrivere. E lui molte volte non riesce a trovare la situazione giusta, il personaggio giusto, non riesce a trovare la situazione adatta. E questo gli crea ancora più angoscia. Cioè non solo che deve far ritornare sta miseri che basta, ma deve trovare le situazioni adatte, deve trovare quello. Ed è veramente molto difficile quando comunque non sei ispirato, o non hai comunque l'ispirazione, o comunque hai sempre quella paura che ti possa succedere qualcosa. Perché il caro Paul è una sorta di Sherazad, no? Deve raccontare le storie e sa che nel momento in cui smetterà di scrivere, lui morirà. E quindi, insomma, deve continuare comunque a scrivere. Annie tutte le volte va lì, allora, che cosa succede, cosa non succede, cioè li mette anche ansia. Lui dice, ok, fammi scrivere almeno, finire il capitolo, poi te lo faccio leggere, perché voglio dire, non è che ti posso far leggere riga per riga tutte le volte. Ed è stato veramente un libro magistrale, è stato veramente un libro bello. Io ve lo stra, stra, stra consiglio, perché, giuro, non ho mai letto un libro così coinvolgente, un libro così pieno di suspense, che, insomma, sei lì lì che succede qualcosa. Poi senti, c'era una parte dove lui praticamente era nella stanza e senti i passi di Annie che si stanno avvicinando sulle scale, no? Senti il tonfo dei passi che stanno salendo e lì sale veramente la tensione, perché dici, oddio, adesso che cosa sta succedendo? Cosa succederà quando Annie entra in quella stanza? Cioè, è veramente, mamma mia, cioè io ho letto il libro in 3-4 giorni, poi tra l'altro, cioè, adesso vi dico come il libro mi ha preso. Allora io praticamente stavo leggendo sul cesso, stavo leggendo ovviamente, ed ero talmente concentrato che quel deficiente è andato sul balcone che comunicava con il bagno, cioè praticamente c'era la finestra del bagno che faceva sul balcone. Il cretino è andato lì, si è messo a fare, boh, perché mi sono preso male, ho chiuso subito la finestra. Ho prima urlato, poi ho chiuso subito la finestra. Cioè, talmente che ero concentrato, talmente che ero ansioso, no? Ero talmente calato nel... che mi sono preso male. Mamma mia, che deficiente. Vabbè, comunque, la particolarità del libro è che c'è un libro nel libro, ovvero voi trovate poi proprio tutti i capitoli che scrive Paul. E niente, io non so più cosa dirvi se non consigliarvi questo libro. Molto bene, il video è finito. Il libro è caduto. Il video è finito, fatemi sapere se l'avete letto o non l'avete letto. Fatemi sapere se avete letto qualcos'altro di King, che cosa mi volete consigliare. Io vi mando un grosso bacio, sempre con la mia capigliatura blonde, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!